Cosa faccio, come sei? È bello, è bello, magari sei qua Yomben, eh! Omar, quando siamo stilotello mi rimane un po' stramare Vediamo se riesce Yomben 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 Ah, fermo, 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 fermo E ha deciso di chiamarlo, mi sa? No, 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 ma mi faccio sentire una cosa Perché ora mi pensate per prendere un giro cosa, no? Però, mi sa, dobbiamo attaccare... Se non si sente Questo è Torus Idis Strootman Ci abbiamo lasciato Di gruppo, di squadra Giustamente Grazie 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 Grazie